. Uomini e donne news, Luca riceve al GF un nuovo messaggio su Soleil. Uomini e donne news, un messaggio per Luca su Soleil. . Nuovo messaggio per Luca Onestini di Uomini e donne al Grande Fratello Vip su Soleil Sorghe. Quanto è venuto fuori nella quinta puntata del reality sulla coppia ha sconvolto un po' gli animi dei telespettatori e dei concorrenti. . Lextronista continua a mostrarsi sconcertato e sicuro di voler chiudere la storia con Soleil. Questultima avrebbe fatto delle affermazioni sulla famiglia di Luca, che questultimo non avrebbe per nulla apprezzato. . E' proprio questo il motivo per cui Lonestini ha scelto di restare nella casa anziché raggiungere la sorghe per chiarire. . A quanto pare per Luca il problema non sarebbe nato con Marco Cartasegna, ma con le parole utilizzate da Soleil a pomeriggio 5. Tutti i concorrenti hanno pensato bene di consolare Luca in questo momento così difficile. . Pare che Lonestini abbia, ormai, fermamente deciso di dare ascolta le parole del fratello Gian Marco e di non fidarsi di Soleil. E mentre sui social tutti sembrano avercela con l'ex corteggiatrice, ecco che arriva un messaggio per Luca. . Luca Lonestini riceve un messaggio da oltre le mura su Soleil Sorghe. . . La verità è fuori. Questa è la frase che alcuni concorrenti hanno potuto sentire da oltre le mura della casa più spiata d'Italia. Aida, Malgioglio, Flaherty e Giulia hanno cercato di ascoltare bene quanto detto al di fuori delle mura. . Subito dopo hanno potuto rivelare quanto sentito al diretto interessato. Luca, in realtà, non ha avuto una reazione clamorosa. . . . . . . .